Configurare la tua casella di posta Aruba in Thunderbird è semplicissimo. Ti mostrerò come fare. Apri il programma, clicca in alto sul menu Strumenti e scegli Impostazioni account. Nella nuova schermata clicca su Azioni account e poi su Aggiungi account di posta. Si parte. Indica il tuo nome e cognome o quello che vuoi che i destinatari visualizzino come emittente. Inserisci l'indirizzo di posta che vuoi configurare, mi raccomando, tutto intero. Scrivi la password. Ora puoi scegliere se utilizzare la configurazione automatica cliccando su Continua o dedicare altri 30 secondi alla configurazione manuale. In questo video ti mostro i parametri corretti da inserire cliccando su Configura manualmente. Puoi scegliere il protocollo. Io sceglierò IMAP. Se anche tu hai scelto IMAP, devi indicare imaps.aruba.it, come sicurezza della connessione SSLTLS e la porta 993. In Metodo di autenticazione seleziona Password normale. Se invece hai scelto POP, il server è pop3s.aruba.it e la porta è la 995. Tutto il resto è uguale alla configurazione IMAP. Per la posta in uscita scrivi il server smtps.aruba.it. Come prima seleziona SSLTLS e nella porta indica 465. Anche in questo caso nel metodo di autenticazione seleziona Password normale. Il nome utente per entrambi i server è l'intero indirizzo di posta. Se tutti i dati sono corretti, clicca Fatto per aggiungere l'account. Cliccando Fine potrai utilizzare immediatamente la tua casella.